Conosciamo meglio due degli sponsor Fiso, sono Gianluca Peripoli e Sabina Zambon di Sabi Sport. Allora, questo connubio con Fiso che oramai si è rafforzato. Sì, è partito l'anno scorso con l'amicizia che mi lega anche col presidente Mauro, è partito l'anno scorso con il settore mountain bike e quest'anno poi l'abbiamo allargato al settore corsa e molto probabilmente andremo a toccare anche il settore sci da fondo. Quali sono i valori che vi hanno permesso di dire che il messaggio Fiso ci piace? Allora, io e mia moglie da uomini e donne di sport, dove insomma viviamo lo sport a 360 gradi perché comunque abbiamo anche tutta una serie di situazioni per cui noi operiamo dal ciclismo all'atletica a tanti altri sport, però abbiamo così abbracciato la grande famiglia dell'orientamento proprio perché abbiamo visto che nell'orientamento c'è ancora lo sport a livello puro. La genuinità che traspare dagli atleti, dai dirigenti, da chi appunto è all'interno di questo mondo è un qualcosa di bello che fa ancora capire quali sono i veri valori dello sport e quindi per questo motivo Sabi Sport ha voluto dare una mano ed è al fianco della Fiso. Grazie a tutti.